Ragazzi, prima volta a Vallelunga, primo evento Motosport, ci siamo fatti due ore di macchina e niente, guardiamoci l'evento e vediamoci in Asca. Ciao, scusatemi, prima di lasciarvi al video devo dirvi due cose molto importanti. La prima è che questo è stato il mio primo evento Motosport e lo scopo di questo video è di farvi vivere almeno una parte delle emozioni che ho provato io quel giorno. Oltre a farvi vedere in Asca da un'altra prospettiva, siccome lui ci fa vedere le carri come pilota, ho cercato di farvele vedere come un tifoso che va quel giorno in pista. Seconda cosa, ci tengo a ringraziare in Asca per avermi fatto conoscere il mondo del Motosport, siccome io prima conoscevo solo la Formula 1 e tutto questo per me è nuovo. Ah, e grazie per le emozioni che ci ha fatto vivere quel giorno. Vi lascio con il video, buon proseguimento. Grazie per le emozioni che ci ha fatto vivere. Grazie per le emozioni che ci ha fatto vivere. Grazie per le emozioni che ci ha fatto vivere. irripetibile, credo tra pochissimo vediamo il datario su quella va la data, numero 2, numero 2, questa è 2, quella è la prima, la prima la��� via a Vai, 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 grandissimo! Bravissimo! Secondo? Buon! Bravissimo! Eccole! Fanno la gara di queste! Sì, la gara di queste! La gara di queste! La gara di queste! Il full position proprio! Via! Andiamo! Via! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. per poi... grazie a tutti. 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 Che sanguezza.